Da pochi giorni sono trascorse le giornate terribili del racconto della passione e morte di Gesù, racconti che hanno toccato la nostra sensibilità, l'abbiamo ascoltata tante volte, però uno non si stanca mai di rivivere e di riflettere quando ha sofferto il nostro Signore Gesù Cristo. Se però la settimana santa ci tocca nell'intimo, non possiamo negare che il ricordo della passione e morte è di una eccellenza grandiosa nel racconto, cioè viene raccontata la nostra redenzione operata da Gesù e i nostri compiti da redenti che si andranno scoprendo maggiormente, piano piano, piano piano, non è che di colpo noi comprenderemo in pieno l'azione salvatrice di Cristo, è la nostra responsabilità di risposta. A misura che ci avvicineremo a Gesù, alle sue pagine del Vangelo, ai suoi insegnamenti, noi faremo una scoperta sulle nostre responsabilità. tale rapporto, quindi possiamo stabilirlo tra natura divina e natura umana e possiamo dire la grazia sana e nobilita la natura, ma anche si adatta alle sue modalità ed esige la sua collaborazione. Cristo ci ha redenti, ma non fa tutto da solo, vuole che noi partecipiamo alla sua prossima morte e alla nostra redenzione. È dottrina cattolica che né il peccato originale, né i peccati personali distruggono totalmente le buone disposizioni e le energie elargite dal creatore alla natura umana. Tutti gli uomini, anche i più grandi peccatori e perfini miscredenti, i non battezzati, coloro che non fanno parte della nostra religione, addirittura che sono contro Dio, contro il nostro Redentore, contro i cristiani e sappiamo quello che è successo proprio in questi giorni. Allora, tutti gli uomini, anche i peccatori, perfine miscredenti, hanno la capacità di compiere con le loro forze naturali del bene nel campo morale, come per esempio di onorare, amare i genitori, di essere retti, veraci, misericordiosi con i loro prossimi. Però spesso il bene riesce loro molto difficile. Quindi non possiamo dire che tutti coloro che sono dell'altra parte, della trasponda, poveretti, possono anche con le forze naturali compiere delle opere di misericordia, delle opere di impegno, di rettitudine, di onestà. Interviene la grazia redentrice di Cristo che esige sanando e santificando. Le passioni, per esempio, l'appetito, il desiderio degli onori o del piacere, a volte prevalgono anche contro la retta ragione e la legge di Dio. Hanno desideri contrari allo spirito. Con la loro turbolenza, le passioni ci sconvolgono la mente, ci tolgono la visione oggettiva delle cose, ci accecono, come dice il proverbio, e trascinano la nostra volontà verso il basso e le rendono difficile il decidere per ciò che è ragionevole e voluto da Dio. La grazia di Cristo non ha niente del tutto ciò che è in noi e è inimicizia al nostro intelletto e fortifica la volontà, ci dà la visione giusta e la forza morale necessaria per dominare i bassi istinti e sottometterle alla legge di Dio. Sostenute dalla grazia, possiamo dire con San Paolo, io posso ogni cosa, posso adempiere ogni comandamento di Dio in colui che mi dà la forza. Gesù ha illustrato l'efficacia della grazia con la parabola del lievito, il quale con la sua forza influisce su tutta la massa di farina, però vi è sviluppo e sviluppo anche nell'impastare la pasta con il lievito e la farina. E c'è quale? Perché la farina non è sempre ottima per tutto, ci sarà anche la farina scarta e se la farina è scarta il rendimento non è eccellente. Ecco qui allora, le nostre capacità devono essere umane, devono essere sempre proiettate al massimo che poi unita alla grazia dell'antattura divina noi possiamo compiere delle grandi opere. La collaborazione del lievito e della farina nasce il pane, però il lievito produce una pasta di maggior o minor valore secondo le qualità della farina, abbiamo già detto. Come sarebbe sbagliato aspettarsi tutto dalle proprie forze e volersi salvare da sé, altrettanto e sbagliato, sarebbe sprecare tutto dalla grazia e non impegnarsi con le nostre forze. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni e nella continua ricerca dei beni eterni. Per te lo chiediamo Dio Padre, per Cristo nostro Signore. Grazie a tutti.